A Roseto degli Abruzzi l'Associazione Guide del Borsacchio ha inoltrato una richiesta ufficiale a RFI Regione Abruzzo, provincia di Teramo, Ministero delle Infrastrutture e Comune di Roseto, per chiedere in particolare un confronto costruttivo sull'imponente progetto presentato da RFI nel 2022, volto a potenziare e creare bypass e reti ferroviari di supporto e miglioramento dell'attuale linea adriatica. Tale progetto prevede nuovi collegamenti lungo le colline del territorio rosetano tramite viadotti e gallerie per poi rientrare proprio nel cuore della riserva del Borsacchio, riallacciandosi sul tratto costiero poco prima della pineta Mazzarosa. RFI che a settembre ha presentato una sorta di variante destinata soprattutto al treno merci che andrà a seguire la linea delle colline da Alba Adriatica fino a Roseto. Il problema qual è? È che si ricongiunge sul tratto esistente proprio traforando il colle principale della riserva, Colle Magnone, e passando sui terreni agricoli costieri per riallacciarsi e questo è ovviamente un problema. Non viene citata la riserva, non vengono citati i vincoli di una riserva e quindi sicuramente questo progetto dovrà essere modificato. Ma da qui l'idea che abbiamo avuto insieme. Da circa 30-40 anni a Roseto si parla di arretrare la linea della ferrovia. E visto che Roseto è uno spazio ormai totalmente occupato, la linea attuale della ferrovia è l'unico spazio che è possibile recuperare per creare nuovi corridoi verdi, giardini, parchi, piste ciclabili e magari, come in altre città che hanno fatto la stessa cosa, mezzi di collegamento elettrici per trasportare i cittadini da una parte all'altra di Roseto. Un imponente progetto che secondo l'Associazione Ambientalista andrebbe ad impattare drammaticamente sulla riserva naturale sottoposta a vincoli paesaggistici, penalizzando la natura e le attività agricole cuore dell'area protetta e su cui si costruirà parte dell'economia sostenibile di Roseto 2050. Ma visto l'importanza del progetto, l'Associazione ha annunciato di essere disponibile a collaborare per trovare la miglior soluzione. Anche perché nella vita, nella politica, ci sono dei momenti. Quanto mette RFI in ballo per fare questo tratto e questo collegamento? Oltre un miliardo di euro, una somma importante. Perché nonostante tutti i urbanisti e amministratori hanno pensato a quest'idea e non l'hanno mai realizzata negli ultimi 30-40 anni, perché non c'erano i fondi. I fondi ci sono adesso, il momento di aprire una trattativa e un tavolo di confronto per un'idea del genere è adesso.